Al momento credo che la Lega potrà solo prendere atto del pagamento dei 40.000 euro, effettuato tra l'altro attraverso la volontà anche del custode giudiziario, dottore Baldassare. Credo che questo rappresenti, al di là dei formalismi, anche una buona notizia per la Lega, oltre che per il basket irpino, non c'è stato solo De Cesare o Mauriello, ma c'è stata anche la volontà da parte di chi in questo momento sta governando il processo relativo ai problemi della Sidi Gas Spa di far continuare il campionato alla Scandone, quindi c'è la volontà anche da parte di chi poteva anche dire a questo punto cediamo il club. Credo che bisognerà prendere atto di questa evidenza, al di là, ribadisco, del pagamento effettuato, che credo non potrà fare altro che consentire alla Scandone l'iscrizione in Serie B. Per quanto riguarda il calcio, ormai è nota questa trattativa che è stata avviata la scorsa settimana negli uffici della Sidi Gas. È evidente che non si immagina una conclusione a breve, in uno o due giorni. L'acquisizione, anche onerosa, di un club necessita di una trattativa e anche del reperimento di importanti somme anche per il prosieguo del campionato, mi auguro che per fine settimana, inizio della prossima, ci possa essere un ulteriore incontro per verificare la fattibilità di questa operazione. Da quelle che sono le mie notizie, da questo punto di vista c'è stata qualche evoluzione in presenza di un'offerta reputata congrua sia da parte di De Cesare che da parte del custode giudiziario e dei commissari. Credo che questa volta potremmo eventualmente assistere alla cessione del club. Oggi per la Scandone comincia una nuova vita ma non finisce l'impegno per il suo supporto. Si era parlato di imprenditori interessati a rilevare e comunque a supportare altri club che avrebbero potuto poi sostituire la Scandone. Lei si era candidato un po' come procacciatore di sponsor e il suo lavoro a partire da oggi pomeriggio è questo, però c'è trovare delle sponsorizzazioni che possono aiutare il basket. Mi caglio di essere sostenitore non solo morale ma spero anche materiale immaginando di poter esortare chi realmente vuole bene alla Scandone, allo sport, al basket irpino affinché non solo sia buoni ma magari sostenga con una sponsorizzazione che non deve per forza essere di migliaia di euro. Ed è per questo che ho spiegato che si potesse concludere positivamente l'iscrizione e ci auguriamo che nelle prossime ore arrivi questa buona notizia. Poi c'è bisogno di attivare finalmente la campagna acquisti a cominciare dal coach ed è evidente che il secondo dopo ci potrà essere l'avvio di una campagna abbonamenti e l'esortazione affinché arrivino anche degli sponsor. Sarà un anno complicato ma noi siamo abituati a soffrire. Mi auguro solo che si possa soffrire nel senso che la Scandone disputi un campionato dei Serie B poi non ci spaventa qualsiasi ostacolo che supereremo. L'importante è disputarlo tutto? Disputarlo tutto, allestire una squadra che in qualche modo possa puntare alla salvezza in maniera dignitosa ma la notizia deve essere iscrizione e partenza della campagna acquisti per poter avviare anche il reperimento di fondi attraverso abbonamenti e sponsor. Grazie. 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 Grazie.